Italia 1! È cominciata. Sì, questo lo so. Io credo ancora in te, Spike. Sono a caccia di Spike. Allora, Spike, vuoi vedere come è fatto un vero vampiro? Baffi. In prima visione Italia 1. Domani sera alle 22.55. Per il piacere di star bene, nasce Granarolo Piacere Leggero. Il latte fresco parzialmente scremato, tutto italiano. Il nuovo piacere del latte è Granarolo Piacere Leggero. Granarolo, la grande passione per l'alta qualità. La balera, di là, di là, di là! Attacca dentro! Continua a grande richiesta il Club delle Meraviglie Kuwait. Chiedi il catalogo al tuo gestore e lasciati colpire dei nuovi premi. Non siete qui per il nuovo catalogo, vero? Il disco più atteso dell'anno è arrivato. U2, il nuovo album. Astra ti fa scoprire il bello del nuovo anno con il grande oroscopo segno per segno. E con Astra le maxi carte, i responsi delle dieci sibille. Astra, scritto nelle stelle. È tornato e cambierà il suo destino. Riso Persia, spirito guerriero. Un gioco Ubisoft. Golia Active Plus. Respiro intenso. Freschezza balsamica. Che c'è di strano? Quando hai un fisico TESMED, è bello mostrarlo. Con TESMED, risultati concreti per un fisico tonico e atletico. Regalalo a Natale. TESMED, in farmacia. Raffreddore, rischio febbre. Tachiflu DEC combatte in fretta i sintomi di raffreddamento e decongestiona le vie respiratorie. È un medicinale, può avere contraindicazioni ed effetti collaterali. Leggere il foglio illustrativo, non somministrare sotto i 12 anni. Tachiflu DEC. E la giornata continua. Denim, per un uomo che non deve chiedere, mai. Con i nuovi premi esso, come la macchina per caffè espresso De Longhi o il mini frigo Pininfarina. Tutti vogliono essere automobilisti. Vita inquadrata? Alza la cresta! Nuovo Garnier SurtiStyle Hard Glue. Incolla all'istante. Gel Hard Glue alle micro serie di frutti. Duri come la roccia. Nuovo Garnier SurtiStyle Hard Glue. Perché duri, non si nasce. Garnier. Italia 1. Il primo gennaio, in prima serata, il primo grande show dell'anno nuovo. Con Rossella Brescia, Andrea Appi e la partecipazione straordinaria di Enzo Iacchietti, Colorado Caffè Live presenta Ride bene chi ride il primo. Sabato alle 21.05 Italia 1.